Allora vi dicevo carissimi amici, giornata alquanto alternativa, siamo sempre in spiaggia come vi ho detto poc'anzi, siamo qui a Punta Marina Terme, siamo in questo bellissimo bagno che si chiama Insieme a Te e direi che chi gestisce è bella più del bagno, guardate che occhi meravigliosi, vi presento Deborah, ciao! Grazie, buonasera a tutti, grazie! Allora Deborah siamo qui perché questo bagno è un po' particolare, che bagno è e com'è nata l'idea? Allora l'idea è nata comunque dall'esperienza mia e di mio marito, mio marito era malato di SLA, nel 2017 abbiamo deciso di compiere comunque un viaggio, un viaggio molto lungo di 800 km fino ad arrivare comunque in Puglia dove esiste la prima spiaggia comunque per disabilità molto gravi, quindi noi dopo 5 anni che Dario era malato è di nuovo tornato a fare un bagno in mare e quindi per noi di qui era nato comunque il desiderio di poter portare comunque una spiaggia anche qua in Emilia Romagna e nel 2018 è partito comunque il progetto anche qui, siamo riusciti a realizzarlo e l'anno scorso abbiamo aperto per il primo mese di agosto, siamo riusciti a fare il primo mese, è stato un mese intensissimo, abbiamo avuto un sacco di ospiti e siamo riusciti comunque a riaprire quest'anno, quindi per il secondo anno raddoppiando tutto, raddoppiando i mesi perché abbiamo fatto luglio-agosto, raddoppiando gli ausili, raddoppiando comunque il giro in pedalò, abbiamo la bicicletta che porta in giro insomma le persone con disabilità, abbiamo più ausili per andare in acqua, abbiamo il giro in barcavela mercoledì, diciamo una vera vacanza per tutti, come io penso se la meritano tutti. Allora è stata una bellissima idea, io ho visto tante persone che sono qui perché tanti sono gli ospiti, come fanno a trovarti? Abbiamo già 130 ospiti registrati comunque in un solo mese, quindi abbiamo già comunque andato oltre l'anno scorso, vengono comunque dal nord Italia, dal centro Italia, per noi è una grande vittoria davvero perché abbiamo visto un po' la gioia dei nostri ospiti e che diventa poi la nostra gioia. Allora tanti volontari anche intorno a questo progetto con questa bellissima maglietta insieme a te? Sì, anche di volontari ne abbiamo già registrati 240, quasi 250 e quindi anche questa è un'altra vittoria perché ovviamente qui è tutto gestito da volontariato, quindi la novità bella di quest'anno sono i gruppi all'interno della spiaggia, proprio gruppi giovani che vengono dalla parrocchia, che magari suonano la chitarra, fanno animazione, ci sono gruppi che comunque si sono affestionati agli ospiti, li vanno magari a prendere dagli appartamenti, li portano qua. C'è un'atmosfera davvero speciale, qui si respira, dove andiamo a respirare un po' è veramente questo, si respira un'aria speciale, di famiglia, di serenità anche magari a persone che vivono comunque già un disagio molto grande a casa. Quando arrivano qui, non so, almeno anche solo una piccola vacanza è tutto diverso. Allora Deborah, se qualcuno volesse venire, sia come ospite che come volontario ad aiutarti, come ti contatta? Basta andare comunque sul nostro sito di internet, quindi www.insimate.org, ci sono tutti i ricapiti di telefono e ci basta chiamare e prendere la presentazione sia come ospite che come volontario. Allora io ringrazio Deborah, grazie a queste persone. Io ringrazio voi, grazie davvero di cuore perché per noi la solidarietà è quello che ci porta avanti ogni giorno. E grazie, grazie a queste persone che fanno tanto per tutti noi, grazie davvero. Grazie di nuovo, buonasera a tutti.